Ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere un po' di cose Allora, iniziamo col Blue Spirit, il negozio di Arese Questi splendidi orecchini a forma di fiore Bellissimi Lo sono costati poco perché sono costati 25 Però per me ne vale la pena Poi Questo non mi ricordo tutti e tre quanto sono costati però Sempre da Blue Spirit Molto belli Poi con la tessera ho avuto uno sconticino Quindi ok E questo è quello che ho preso da Blue Spirit Poi Una cosa che ho preso all'UVS Questo braccialettino Di una nuova marca First Class E' buono perché senza nickel, cadmio e piombo Quindi magari va bene per chi ha qualche allergia E costa 4,99€ Poi iniziamo con un po' di roba del Bichu Brigitte Quindi diciamo questo è un video che è un po' un putpurri Bichu Brigitte Ecco qua Questi mi piacciono un casino Questi orecchini 9,95€ Tutto non in saldo I gufi molto carucci 5,95€ Sempre in blu Continuiamo col blu con questi bellissimi orecchini Basta che si riescano a inquadrare bene Mannaggia Me li inquadri o non me li inquadri bene Oh Non riesco a inquadrarli bene 5,95€ No Scusate 7,95€ Questa nuova videocamera A me è costata E non mi piace proprio Sinceramente La qualità di video sarà migliore Però preferisco l'altra Perché con la bigiotteria Questa videocamera mi fa Questa cosa bruttissima Che ci vogliono sempre Tra i 10, i 15 E per alcune cose Anche i 40 secondi Per Focalizzare Un orecchino Un qualche cosa di bigiotteria E a me Che nervoso Che mi fa venire Mi fa venire veramente Un gran nervoso E questi orecchini Costano 7,95€ Questi che sono Con tutte le sfumature del verde Un verde azzurro Molto carino 7,95€ Ancora col blu Questi a forma di fiore Ed è molto carini 8,95€ Poi Questi che sono i miei preferiti Molto carucci Con la pietra in mezzo 8,95€ Infatti costano 12,95€ Guarda caso Sono quelli che costano Di più di tutti Come ultimi Ma non ultimi Perché secondo me Sono bellissimi Questi orecchini Questi Bellissimi proprio 8,95€ E con questo vi ho fatto vedere La roba del Bishu Brigitte Allora Devo dire che Fra Bishu Brigitte E Accessorize Hanno fatto Sì degli sconti Però Non mi pare Che ci sia Tutta sta grande roba Almeno Per quanto riguarda Quello che ho visto io Poi magari Qualche negozio è meglio Per quanto riguarda Il Bishu Brigitte Ho visto Sì Cosa a metà prezzo Però Tutta roba che Non mi piaceva Sinceramente Quindi ho preso Altra roba E per quanto riguarda L'Accessorize Fanno sempre quella cosa Che ti mettono Tutta la vecchia Tutta la vecchia roba In una parte di parete E Appena entri Ti dicono Guarda Questo è tutto al 50% Mentre invece Dall'altra Mentre invece Fanno un'altra parete Dove c'è tutta la roba nuova E te lo segnano Allora Ho visto Per quanto riguarda L'Accessorize Anche robe che Normalmente Durante l'anno Non avevo visto Quindi penso che Saranno vecchie Rivecchie Stravecchie E Con questo è tutto Vi saluto Un bacione a tutti Alla prossima